Scegli il titolo abilitativo, compresi i nuovi modelli Oppure con il wizard, ricerchi per tipo di intervento o per numero di intervento Scegli l'intervento tra quelli proposti Vedi i dettagli, il regime amministrativo e i riferimenti normativi Selezioni il titolo e il modello da utilizzare Visualizzi i paragrafi che compongono il modello scelto Implementi il tuo archivio con tutti i dati necessari Sulla pratica, scegli la sezione da compilare Individui il soggetto Il programma si pone sul nodo corrispondente Prelevi il soggetto e il nodo viene contrassegnato come compilato Compili tutti gli altri dati richiesti dal modello unico Esporti in PDF e PDF A Oppure stampi su carta Ba, causa notably che il povo Oke quando fa hi E ANDISSID story BELREVI 保存ati BELREVI BELREVI Grazie a tutti